Se necessario, è possibile invertire la porta. Staccare il pistone Soft System dal perno sotto la porta. Staccare il pistone dalla cerniera. Rimuovere il perno utilizzando la chiave in dotazione. Rimuovere le coperture in plastica. Allentare senza rimuovere le viti nelle staffe. Rimuovere la porta appoggiandola ad un piano di lavoro. Rimuovere le cerniere e fissarle diagonalmente nel lato opposto. Impuntare le viti della cerniera sul lato opposto. Rimuovere la piastra superiore di fissaggio della porta. Posizionarla sul lato opposto e avvitarla. Agganciare e avvitare la porta. Controllare che la porta si chiuda in modo corretto. Ripetere il processo in modo inverso per ricollegare il pistone Soft System. Avvitare il perno. Avvitare il pistone alla cerniera e collegarlo al perno sotto la porta. Inserire le coperture in plastica.